Perchè no? Di brutto Bisogna avere forza delle mani Tu avevi sentito la voce di Cold Alex? Eh? Parla un po' Cold Ecco qui sono io e non ti faccio uscire neanche stasera Rimani lì Si chiama Poldo Chi è? Poldo? Poldo Abbreviato Poldo E' un bravo guaglione Bravissimo ha cambiato microfono Eh si noi ti lasciamo con i tuoi due amici E potete intrattenere